Si era presentata come figlia di una lontana parente, dimostrandosi disponibile ed affettuosa. Con questi comportamenti e atteggiamenti aveva conquistato la fiducia di un 84enne di Ortona, tanto che l'anziano ne aveva cointestato il libretto postale. La donna, anche lei di Ortona, con diversi prelievi del tempo, si era impossessata del denaro depositato, accreditandolo in suoi conti correnti personali. È stata però scoperta dai finanzieri della tenenza di Ortona, indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Chieti e avviata a seguito della querela dell'anziano, depositata dopo aver scoperto il conto corrente postale svuotato di almeno 34.000 euro, i risparmi di una vita sottratti a sua insaputa. I finanzieri hanno dettagliatamente ricostruito le operazioni di sportello ed eseguito il sequestro di 34.000 euro ormai nella totale disponibilità della donna. Donna che, indagata per il reato di truffa, che prevede una pena fino a 5 anni di reclusione e una multa fino a 1.549 euro, con l'aggravante di aver agito ai danni di un anziano, ha restituito già l'intera somma ricorrendo alla giustizia riparativa contemplata dalla riforma Cartabia, ovvero la vittima e l'autora del reato contestualmente partecipano alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato mediante il risarcimento del danno prodotto.